Adoro questo gruppo, è uno dei più importanti e anche uno dei più bravi del campo, le novel e non solo. Andonello, versatile e professionista, ora che la mente, lo sappiamo, ha dedicato A con Serena Udini, una bella soddisfazione per noi, per i nostri amici, che continuano a fare la loro musica umilmente. Grazie a tutti. 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 In effetti, se ci pensate, sono passati quasi 50 anni a godere di questi brani, di questi pensori, di questi capolavori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.